Ssssshh! Via! Il re viene a vedere lo spettacolo la settimana scorsa e dice... Oh oh! Emozioni e brividi! Una preghiera, però. Potreste renderlo... Più allegro? Sì, ha risposto. Quello che vogliamo, su. Sorprese? Esatto! Qualcosa di nuovo. Emanate un decreto. Niente più ragazzi travestiti. Solo ragazze con i segni al vento. Questa è una catastrofe! Dal regista Richard Eyre. Che dramma! Una nuova commedia sul sesso. Il conte dice che vi tagliano via... Castrati. Cosa? Castrati. Oh! E poi diventate donna. Sospetto che il conte di Luther Day non sia un chirurgo. No, è un conte. Travestimento. Mi serve subito un lustra scarpe. Io ho il lustra scarpe. Con voi? Una sgraffiatura signora è cosa orribile. E inganno. Chi è il vostro protetto? Gira voce che verrà a palazzo domani notte. Davvero? Oh sì. Ed ora ravviviamo un po' le cose. Che ne dite? Mettiamoci al lavoro, volete? Se li date una voce buffa... Posso ricominciare? Ho una camminata buffa. Non mi piacerà. Sorprendetemi. Siamo quello che facciamo! Non c'è più niente da vedere ad ogni modo. Vi domando scusa. Perché non mi avete finita? Sono sempre interessato a come muoiono i miei rivali. Billy Crudrup, Claire Danes, Rupert Everett, Tom Wilkinson, Edward Fox, Hugh Bonneville, Ben Chaplin, Richard Griffiths e Zoe Tapp. Ecco, questa è la tragedia. Timore e terrore. Poi si va comunque a cena. C'è gran video.